Salve e bentornati a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV dove rispondiamo alle domande dei nostri telespettatori. Continuate a mandarcele a domande-fatima.it. Quella di oggi è una domanda piuttosto lunga, quindi cercherò di riassumerla un poco. In sostanza il nostro telespettatore ci chiede questo. Poiché la Russia non è stata consacrata al cuore immacolato, vi sono state determinate conseguenze. La Russia ha diffuso nel mondo i suoi errori, come il comunismo e un modo di pensare laico e ateo, di stampo massonico, e ormai l'umanità sembra preda di un modo di pensare ateo e globalizzato, nel quale Dio non sembra avere più spazio e dove pochi uomini e poche istituzioni hanno un potere immenso. Come può il Papa pensare di riuscire a consacrare la Russia con tutta questa opposizione? Allora, chiariamo subito che il comunismo è solo uno degli errori della Russia perché esso discende in realtà dalla massoneria che, infiltratasi nella Russia azzarista, portò poi alla rivoluzione bolshevica. Quando la Madonna di Fatima parlò degli errori della Russia, tra questi c'erano prevalentemente gli errori della massoneria, del sionismo. Ve ne sono anche altri, ma questi sono i più gravi. Il comunismo discende dalla massoneria e i centri di potere mondiale sono tutti in mano alla massoneria. Governi, banche, istituzioni finanziarie, l'opinione pubblica manovrata, i mass media. Viviamo come se Dio non avesse alcun ruolo nella nostra società. Quindi, per rispondere al nostro telespettatore, come può un Papa riuscire a resistere a tutto questo? E i Vescovi, che come sappiamo devono unirsi a Lui nella consacrazione, obbediranno all'ordine di Roma di consacrare la Russia? Ebbene, non dobbiamo dimenticarci la promessa della Madonna che alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e un periodo di pace verrà concesso al mondo. Sappiamo quindi che tutto questo avverrà, quel che non sappiamo è quando. E la maggior parte delle persone non si rende conto di cosa abbiamo da perdere. Se non ci impegniamo a far sì che avvenga la consacrazione, è l'unico modo per evitare la Terza Guerra Mondiale. Se verrà fatta in tempo, John, riusciremo ad evitare l'annientamento delle nazioni, come profetizzato dalla Madonna. Se consacreremo la Russia in tempo, milioni di cattolici cesseranno di essere perseguitati, come invece avviene oggigiorno, specialmente luoghi come la Cina o il Medio Oriente. Suor Teresa Neumann disse che se la consacrazione della Russia fosse stata compiuta in tempo, molte delle cose più terribili che accadono al mondo verranno a evitare. Ora, se mi chiedi se la consacrazione verrà fatta in tempo, onestamente ti risponderei di no, secondo me no, perché la gente continua a non capire quanto sia importante. Continuano a danzare sull'orlo dell'abisso. C'è chi mi prende in giro perché sono più di 30 anni che ne parlo, ma non mi importa. Io continuo ad andare avanti perché so che è la cosa giusta. Il punto è che, come ho detto poc'anzi, non ci rendiamo ancora conto cosa abbiamo da perdere e tutto ciò che abbiamo da guadagnare grazie alla consacrazione eviteremmo l'annientamento delle nazioni. Ma se la gente non comincerà a fare la sua parte parlando ai propri vescovi, facendo di tutto per sbargere la voce su Fatima, beh John, io penso che non riusciremo a compierla in tempo. Non credo che eviteremo l'annientamento delle nazioni prima della promessa della pace nel mondo purtroppo. Ovviamente io non ho il dono della profezia, non posso esserne certo, posso solo far quel che so essere la cosa giusta, cioè porre Fatima al centro della mia vita, spargere la voce, portare il messaggio della Madonna e a quante più persone possibili e far sì, se Dio vorrà, che un numero sufficiente di persone si svegli e agisca prima che sia troppo tempo. C'è chi mi dice perché non parla al Papa, Padre Gruner? Ci ho provato. Semplicemente non c'è modo per arrivare a lui. Deve essere fatto da altri, da tutti voi, dai laici, dalle preghiere per il Santo Padre, dai sacerdoti e da quei vescovi che trovano il coraggio di parlare di un argomento quasi tabù per il Vaticano, come è appunto Fatima e i suoi messaggi profetici. Servirebbe un sacerdote, magari il confessore del Papa, che avesse il coraggio di dirgli santità. Non le do la soluzione fino a quando non avrà fatto il suo dovere, o perlomeno finché non avrà fatto tutto ciò che ha in suo potere per far sì che almeno il suo successore possa ottemperare alle richieste della Madonna di Fatima. Ci vorrebbe una certa dose di coraggio, certo, ma anche se il Papa dovesse arrabbiarsi, il suo confessore potrebbe rifiutargli la soluzione. Sto andando un po' oltre, ma per tornare alla domanda è chiaro che la forza umana dei nemici di Dio, unita alla mancanza di fede e di coraggio da parte dei fedeli e del clero, sono un grande ostacolo alla consacrazione ed è per questo che non penso che potrà avvenire in tempo. Tuttavia, sappiamo che essa avverrà ad un certo punto. Alla fine dei conti, siamo o no, seguaci di nostro Signore Gesù Cristo? E se lo siamo, non è nostro dovere obbedire a ciò che Sua Madre ci ha detto? In nome di Dio, durante le apparizioni di Fatima? La consacrazione, lo sappiamo, è ostracizzata da molti, ma dietro di loro c'è il nemico con la S maiuscola, Satana. E non crediate che i Suoi alleati siano solo gli oppositori di Fatima, chi si oppone in maniera manifesta al volere di Nostra Signora, no. Anche i pavidi e i neutrali sono responsabili di questa situazione, anche chi ha poca fede o non ha il coraggio di parlare di Fatima, è colpevole di questa situazione. È nostro dovere invece essere chiari e il nostro parlare sia sì sì, no no, perché il resto è del maligno. E chiedere al Santo Padre e ai Vescovi di consacrare la Russia, mi tocca ripeterlo, perché anche questa è un'obiezione che riceviamo di frequente, non è affatto un atto irrispettoso nei suoi confronti, anzi, è nostro dovere essere chiari con i nostri superiori con il dovuto rispetto, certo, ma sempre al fine di difendere, sostenere e promuovere la verità. E la verità di Fatima è una verità divina. Dobbiamo pregare per il Santo Padre, come ci ha chiesto la Madonna, perché solo per mezzo di una grazia divina che discenderà su di Lui, con le preghiere dei fedeli e l'intercessione della Beata Vergine, solo con la preghiera il Papa sarà in grado di fare quel che deve. Se però continuiamo a pensare che i principi e le potestà di questo mondo siano più potenti di Gesù e Maria, ebbene allora stiamo abbandonando la nostra fede. Dio irride coloro che non credono in Lui, essi sono nulla ai Suoi occhi, lo leggiamo nei Salmi, questa gente che crede di aver sconfitto Dio sono come un bambino che ti dice minaccioso, ehi John, ora vengo e ti faccio a pezzetti, stai tremando già John? Sono ridicoli, non sono nulla di fronte al Signore, sono come una goccia nell'oceano se paragonati al potere di Dio. Non dobbiamo temerli se restiamo saldi nella nostra fede e obbediamo a ciò che ci ha chiesto il cielo, ma dobbiamo agire, dobbiamo fare, non solo parlare. Già, come in quel passo della Bibbia, e adesso non mi ricordo dove esattamente, nel quale tutta quella gente diceva pace, pace, vogliamo la pace, e all'improvviso scende su di loro la distruzione. Ecco, quella è una pace falsa, è un'illusione umana. Esatto, è la finta pace del nuovo ordine mondiale massonico, l'unica pace che ci viene spacciata da organismi come le Nazioni Unite. Ci viene chiesto di rinunciare alla nostra fede, di non provare più a salvare la nostra anima. State lontano dal ragone politico, andate in giro, spendete, divertitevi, fate quel che volete, basta che lasciate intatto il sistema. E intanto, il grande fratello ci osserva. 1984 di Orwell, è stato un libro profetico, l'autore conosceva bene i sistemi di controllo delle masse da parte dei regime autoritari, vuole metterci in guardia per quello che sarebbe accaduto, adesso a livelli che superano addirittura la fantasia. Certo, ma per tornare alla domanda oggetto della trasmissione, come ha ricordato lei, padre, la Madonna ci ha promesso che il suo cuore immacolato triunferà. Noi ci arriveremo quindi, a prescindere da quanto siano feroci i nostri nemici. Continueremo a perdere battaglie, certo, ma non è questo il punto. Perché alla fine Dio non ci chiederà se abbiamo vinto o perso, ma solo se ci abbiamo provato veramente. È quindi il caso di cominciare davvero a provarci, senza scuse. Esattamente, John. È proprio qui il problema. Fare, non parlare, agire, non rimanere in disparte. Sono quasi 40 anni che faccio questo lavoro. C'è tanta gente che non mi può vedere, ma molti altri che dicono, ah che bravo padre Gruner, vedi che cosa fa, bravo, davvero bravo. Ecco, non me ne importa nulla degli elogi se poi quelle persone non alzano un dito per il messaggio di Fatima. Alla fine risponderanno a Dio, non certo a me, o a nuovo ordine mondiale. E quando gli verrà chiesto se ci hanno provato, beh, saranno problemi loro. Ecco perché dobbiamo continuare a promuovere la consacrazione della Russia e a mantenerne viva l'importanza. Il nostro apostolato del centro di Fatima è l'unico che continui a parlare dell'urgenza di consacrare la Russia e di rivelare integralmente il terzo segreto. Mi auguro che la puntata di oggi possa esservi stata utile. Grazie e arrivederci.